Tra le diverse realtà sanitarie scese in campo fin dal primo giorno della pandemia per fronteggiare il Covid, ci sono le unità speciali di continuità assistenziale. Anche sul nostro territorio, il lavoro e gli interventi portati avanti dai medici delle USCA sono risultati essenziali per l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti dal virus e non solo. Il punto più importante è assistere i pazienti positivi che sono a casa e che hanno una sintomatologia tale da non richiedere il ricovero. Quindi il punto sostanziale è tutta la parte di diagnosi, quindi prima il tampone a casa per i pazienti che sono suggestivi, una volta che sono positivi, l'inquadramento dei sintomi, l'esecuzione di ecografie polmonarie, esami ematici, se necessario si organizzano anche le TAC dal domicilio fino all'ospedale e ritorno per inquadrare la situazione polmonare e una volta stabilito il quadro generale si sceglie la prospettiva più adeguata per il paziente, se è il trattamento a domicilio o in caso all'ospedalizzazione. Ovviamente noi ci richiamo ad assistere a domicilio qualsiasi persona non abbia necessità di un ricovero e che quindi può essere di conseguenza assistita a domicilio. Abbiamo avuto pazienti di 95 anni, così come abbiamo assistito a casa pazienti che hanno avuto questa necessità nonostante l'età na grafica minore. Ci sono stati dei 40-45 anni che a casa sono stati molto male e hanno avuto bisogno comunque di tutto il supporto medico necessario. Quante sono state le richieste, diciamo soprattutto in questo periodo di terza ondata? Allora, in termini di terza ondata ancora non abbiamo i numeri complessivi, ma abbiamo raggiunto un picco massimo di 80 richieste nell'arco di una giornata. Quindi comunque numeri importanti, ovviamente non sono tutte richieste che vengono eseguite a domicilio. Ci sono anche richieste per pazienti con pochissimi sintomi che a quel punto vengono reindirizzate ai drive-in. In termini di numeri complessivi posso dirvi quelli della seconda ondata che siamo arrivati a dicembre 2020 ad assistere 800 singoli pazienti a domicilio, molti dei quali con numerosi ingressi. Oggi ci sono arrivate nel complesso una quarantina di richieste, più l'attività che noi abbiamo comunque quasi quotidiana a livello di centri di urni, case di riposo e cose del genere, a cui forniamo il supporto in termini di attività Covid. Quindi comunque per quanto i numeri siano ancora importanti c'è stata una discesa sicuramente rispetto al picco di un paio di settimane fa. E quante persone e quante unità lavorano qui per appunto le USCA? Ogni giorno abbiamo quattro medici in turno, quattro infermieri e una persona di personale amministrativo che ci supporta nell'attività a livello di computer, burocrazia e tutto quanto. C'è un momento in particolare della vostra attività che ricordate dall'inizio dell'emergenza Covid oggi? Ci sono stati diversi momenti molto importanti, sicuramente il momento del focolaio a casa Roverella di Santa Colomba che c'è stato a dicembre è stato un momento molto impegnativo sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista emotivo. Un sacco di pazienti positivi, voleva dire stare lì dentro a visitarli tutti anche per 6-7 ore di filata, non stop, con situazioni molto critiche, quello è stato sicuramente un momento molto provante dal punto di vista fisico. Contatto con le persone assistite, come è andato in questi mesi quando arrivate nelle abitazioni delle persone? Inizialmente c'era stupore, vi parlo di prima ondata, quando molti non si aspettavano che ci sarebbe stato nessun medico a casa, poi c'è stata la gratitudine, c'è stato tutto lo spettro emotivo, ovviamente si sono create anche delle situazioni di esasperazione perché ovviamente per un motivo o per l'altro qualcuno può aver atteso troppo una visita, però diciamo che di tutto lo spettro emotivo che ovviamente c'è stato la gratitudine è stata la parte più importante.